Ah che bello è Natale, è tutto più bello, più magico, non c'è niente che possa rovinare questa fantastica atmosfera Ma buon Natale caro Victor Eh no caro mio, questa volta non riuscirai a rovinarmi il Natale, anche perché non sono usciti i nuovi cinepanettoni e ho deciso di non recensirne di vecchi, quindi sono a posto Ah, e che ne diresti se ti rovinassi un bel cult dell'infanzia? Rovinare un cult dell'infanzia? Ma non credo che possano riuscirci, poi anche se fai un remake di un cult, non è che mi rovini il cult, quello rimane quindi non credo che tu abbia niente per le mani questa volta E se questo cult fosse mamma ho perso l'aereo? Eh no ma non credo che possano fare una cosa del genere no? Non possono giusto? Oh ma non serve che lo facciano, perché è già uscito Oh mio Dio no, ma che cosa hanno fatto perché? Allora auguri di buon Natale a tutti quanti, spero abbiate passato delle piacevoli ore e che vi siate sfondati di cibo fino all'inverosimile e come vedete non indosso il solito cappellino di Babbo Natale perché l'ho perso non so dove sia finito e non ho avuto il tempo fisico materiale per andare a comprare un altro ma in compenso indosso un bellissimo maglione natalizio a tema Stranger Things e quindi direi che l'atmosfera natalizia c'è tutta Oggi voglio parlare di un film che è su Disney Plus già da qualche settimana ma che io ancora non avevo visto perché avevo paura perché si va a toccare un grande classico della mia infanzia ma anche di quella di tanti di voi che state guardando questo video e quando sento parlare di remake, reboot e quant'altro su certi film io mi terrorizzo sempre parecchio mi riferisco a un film del 2021 per la regia di Dan Maser ed è Homes with Home Alone ovvero Mamma ho perso l'aereo esatto hanno rifatto Mamma ho perso l'aereo e sinceramente l'idea mi sembrava molto stronza nonostante i primi due film abbiano avuto comunque dei seguiti terrificanti che sono anche usciti al cinema uno sicuramente tipo Mamma ho preso il morbillo poi c'è stato Mamma ho lagato la casa ed erano veramente brutti erano dei seguiti questo vuole essere una sorta di reboot anche se il bambino non è Kevin McAllister si pone come un film ambientato nello stesso universo dei primi due che conosciamo e l'ho guardato francamente mi aspettavo qualcosa di brutto invece mi sono trovato una grandinata di merda di piccione che ti va a finire direttamente nelle pupille stendendoti per terra questo film è una bazzucata di merda di pepistrello direttamente nelle narici io piuttosto che riguardarlo mi siederei nudo con le palle sopra una stufa ma siccome è il santo natale e non ho alcuna voglia di finire sulle pagine di cronaca come giovane youtuber morto stroncato da un infarto nel pieno del suo lavoro il giorno del cazzo di Natale del 2021 direi di andare con ordine perché ragazzi io sapevo che questo film sarebbe stato una cacata era ovvio ma io do sempre una possibilità a ciò che guardo voglio avere fiducia nell'umanità voglio pensare che i soldi continuano fino a un certo punto e che se si vanno a toccare certi classici lo si faccia sempre con una certa delicatezza con un certo rispetto ma qui il rispetto è stato risucchiato nel buco del culo del buonsenso perché Cristo Santo non puoi farmi una specie di reboot slash remake di mamma ho perso l'aereo con questi presupposti è roba da fuori di testa vi starete chiedendo a questo punto cosa possono aver fatto di così terribile in questo film da giustificare un simile sclero ebbene ci saranno spoiler all'interno di questo video quindi se non avete visto il film e non volete sapere nulla riguardo prima di vederlo non proseguite con la visione del video anche se non so quanti di voi siano interessati a farsi spoilerare o meno questa cacata mostruosa di film quindi io vado e voi siete stati avvisati e ve lo dico allora ragazzi innanzitutto io ero quantomeno contento che avessero scelto un attore per interpretare il bimbo protagonista piuttosto bravo perché si parla di Archie Yates lo Yorkie di Jojo Rabbit il bambino amico di Jojo che di base non poteva morire non si sa bene come mai aveva anche una faccia interessante cicciottello con questi occhiali enormi esprime una certa personalità e diciamocelo ma ho perso l'aereo non è questo film straordinario in sé perché se fosse uscito adesso probabilmente lo troverai una cacata ma è un film che si è annidato nel mio cuore sia il primo che il secondo sono un film con una trama assurda idiota per l'amore del cielo ma ciò che li distingueva da altri film simili era la scrittura di John Hughes perché John Hughes sapeva scrivere i personaggi ed è per questo che è diventato un grande classico per le feste di Natale questo è un film che di base alla stessa trama ma è scritto da persone incompetenti io non oso immaginare come deve essere andata con gli sceneggiatori quando ho iniziato a parlare di questa porcheria immonda di film allora per queste feste di Natale ci hanno chiesto di scrivere la peggior sceneggiatura possibile che vada a rovinare l'idea di un grande classico quale scegliamo? Maccavo, Gianflauzio mi sembra ovvio andiamo dritti come dei fusi su mammo, perso, la Eoio e mi raccomando il bambino protagonista deve essere un rompico sojono incredibile e le persone lo devono odiare e non appena entra in scena sì perché se fino a questo momento pensavate a darci gli AIDS come al simpatico amichetto di Jojo in Jojo Rabbit sappiate che questo film vi rovinerà completamente l'idea che avevate di questo attore perché qui è Max Mercer e quando ho sentito questo nome ho detto ma non è quello di Prototype quello che veniva infettato dal virus che gli permetteva di smolecolare le persone e assorbirle manco fossimo né la cosa no, quello era Alex Mercer però sinceramente se il risvolto di questo film fosse stato lui che iniziava ad assorbire le persone sarebbe stato decisamente più interessante ma al di là di questo questo bambino si presenta come antipatico come la merda fin da subito non so perché di fatto è sempre lo stesso bambino che abbiamo visto in Jojo Rabbit con gli stessi occhialoni spessi simpatici ma non appena entra in scena e pronuncia le prime due linee di dialogo io ho pensato questo bambino spero che esploda prima della fine del film tipo proprio gli esplodesse il cervello capito pam ed è Macchina che litiga con la mamma perché devono ospitare tutti quanti i parenti i cugini e gli zii a casa loro perché l'indomani devono andare a Tokyo in vacanza e quindi hanno bisogno di ospitare tutti lui è incazzato nero ma la madre non è assolutamente disposta ad accettare la sua ribellione al che lui dice mamma io devo pisciare devo andare in bagno e la mamma ha l'idea più bella del mondo si ferma ok davanti a questa casa in vendita che viene mostrata e quindi si può entrare per vederla peraltro a quanto pare negli Stati Uniti America tu metti un cartello con scritto casa in vendita e equivale a entrambi tutti drasite ma che cazzo di discorso è cioè penso che tu debba prendere un appuntamento io non credo che un giorno passo vedo il cartello affittasi entro e trovo magari il proprietario che sta cagando sul cesso e dico schiusi si può no non penso no ho come l'impressione che questa cosa vada fatta su appuntamento ma in questo universo ok magari poi in Stati Uniti America funziona diversamente non lo so loro possono entrare e il bambino entra e va a pisciare e poi si ferma da bravo bambino rompicoglioni qual è a guardare le carabattole che il proprietario di casa sta sistemando il proprietario di casa che è quest'uomo molto alto è lì che sta per appunto sistemando questa cassa di bibite super zuccherose e una cassa di bambolotti antichi e il bambino tra l'altro simpaticissimo fa subito un commento per nulla inopportuno al proprietario wow forte sembri proprio frankenstein ma ti hanno per caso educato in una stalla no perché io non voglio fare il boomer che iniziano i frasi con ai miei tempi però questa specifica frase la devo cominciare proprio con ai miei tempi sì perché quando io ero un bambino se mai mi fosse venuto in mente di apostrofare un adulto peraltro sconosciuto con una frase del genere mia madre mi avrebbe fatto saltare gli incisivi anteriori con una sberla di dorso pam anello su incisivo anteriore sinistro ok non è normale una cosa del genere e il bello è che il proprietario non batte ciglio e risponde così ah ma forse tu intendi il mostro di frankenstein perché frankenstein era lo scienziato testa di minchia ti ha appena insultato non so se te ne sei reso conto va bene che i bambini sono bambini ma un bambino maleducato quantomeno andrebbe segnalato al genitore che è lì vicino e infatti la madre arriva e il bambino per tutta risposta cosa fa ripete la frase chiedendo alla madre non assomiglia a frankenstein e la madre naturalmente siccome è una donna col pugno di ferro risponde amore quello però è il mostro di frankenstein non lo scienziato frankenstein dove cazzo sono finito è per caso un universo alternativo dove i genitori sono tutte testa di cazzo e i bambini va bene ok andiamo avanti lasciamo stare perché ho pensato bene a quello che ho detto e c'è solo da piangere ma comunque succede che c'è un piccolo battibecco tra la madre e il figlio con la madre che dice guarda che se continui così io ti lascio con la nonna e noi ce ne andiamo a Tokyo da soli e io ho pensato beh è comprensibile nemmeno io vorrei questo bambino fastidiosissimo tre coglioni tanto meno a Tokyo perché se voglio andare a visitare una città affascinante come quella non vorrei rompicazzo tra le balle e invece si devono portare con sé questa specie di maledetto mostro aberrante che la signora ha partorito non si sa come non si sa perché comunque sia c'è anche un battibecco tra il bambino e il proprietario della casa e si parla di questi bambolotti no e la madre dice ma lo sa che quelli possono valere molto conosco uno che ne ha venduto uno antico a 5000 dollari su ebay e ovviamente siccome il proprietario di casa è una persona di spirito se ne esce con una battuta da papà di quelle brutte del tipo ah pensa che vendendo i miei veri figli ho fatto la metà come sono divertente sono al saturnite live evidentemente cioè io questa roba qua non l'ho concepita chi cazzo l'ha scritto come l'avete scritto sto film ma che battute di merda va bene che è un film per famiglie su disney plus ma non è che le famiglie oggigiorno si sono rincoglionite appunto ad apprezzare battute stupide come questa e mi andrebbe anche bene se non fosse che questa battuta la dovete tenere a mente perché è il fulcro del delirio che avverrà dopo e io vi giuro sono anche imbarazzato nel doverne parlare ma ci arriveremo tra poco e quindi vediamo il bambino che quando c'è stato questo battimecco si sente un pochino insultato dal tizio e guarda fisso la scatola col bambolotto e poi c'è uno stacco ok ora io sinceramente quando ho iniziato a vedere il film ho pensato boh non ho capito mi sembra molto diverso ci sta è un reboot alla fine non è propriamente un remake non è neanche Kevin McAllister quindi va bene così madre e figlio arrivano a casa e c'è un cartello fuori dalla casa che recita McAllister security ho detto in che senso McAllister security cosa c'entrano i McAllister con questa cosa perché poi i McAllister security non capivo peraltro con la casetta azzurra che era il logo del primo film e questa cosa non ha granché senso devo essere sincero perché è come se Indiana Jones sui biglietti da visita avesse il suo nome scritto col font della lucandina del film non ha senso questa cosa ho capito che volevo fare una citazione ma la citazione devi saperla fare così mi sembra solo una roba buttata a casa tant'è vero che io ho fatto il fermo immagine perché ho detto ma che cazzo mi significa sta cosa vabbè si capirà dopo arrivano a casa e ci sono tutti i parenti ora non so se vi ricordate come era nel primo film da questi miei parenti erano casinisti anche piuttosto antipatici zio Frankie che era fastidiosissimo zio Frankie ma era comunque tutto scritto bene i cugini erano superficialmente caratterizzati andavamo in camera di Buzz e lo vedevamo parlare di come le donne francesi si radano la topa quando vanno a prendere il sole nude cosa che peraltro la devo ancora vedere ma quel film mi è illuso molto quel film mi ha dato delle certezze nella vita che mi sono crollate non appena ho iniziato a capire cosa fosse una fessa ma al di là di questo c'erano delle caratterizzazioni superficialissime ma c'erano qui ad esempio a distanza di giorni dalla visione fatico a ricordare la faccia della madre la madre in mammo perso l'aereo mammo riperso l'aereo era interpretata Catherine O'Hara che è una bravissima attrice con un volto che ti ricordi ok lo zio Frank è qualcosa di meraviglioso non è che sia chissà quale grande personaggio compare poco dice due battute ma a distanza di ormai 30 anni io me lo ricordo benissimo ma vi ricordate la scena della doccia in mammo riperso l'aereo sei proprio un fico Frank cioè dai ma di scene del genere in questo film ce le scordiamo mannaggia il cazzo e cosa succede quando arriva a casa non riescono a mettere neanche bene in scena il caos cioè un conto è far vedere i cugini casinisti gli zii antipatici ma qua gli adulti sono degli sclerati con il ciclo perenne anche gli uomini c'è uno zio in particolare di cui non ricordo il nome che ha la faccia più da cazzo che abbia mai visto nella mia vita ed è un uomo che terei d'occhio perché a giudicare da quanto è stressato secondo me prima o poi fa una strage io metterei al sicuro i familiari e ci sono questi due cugini che vanno in giro con questi fucili mitragliatori che lanciano queste freccette che sembrano fare anche piuttosto male fastidiosissimi tipo che tu sei lì che ti fai cazzi tua e l'uno dal lato cioè ma ragazzi ma adesso io non voglio dire ma una legnata ogni tanto cioè ma porca adesso si scherza io parlo nel film non parlo nella realtà però voglio dire cioè questi non sono dei cugini fastidiosi non è Fühler che si pisce addosso questi sono due demoni che sono usciti dall'inferno e che hanno dato dei giocattoli in mano cioè ma veramente io ero all'ibito e ho detto ma minchia cioè ma qua altro che irritarsi qua proprio da 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 chiamare la polizia fuori di testa peraltro sto ragazzino ha anche una sorella che non è minimamente neanche caratterizzata come era Buzz all'epoca è una sorella che dice due battute messi in croce e soprattutto non ci viene fatto vedere il rapporto che lui ha con i genitori nel giro di 20 minuti nei primi due film soprattutto nel primo Hughes riusciva a farti capire come mai Kevin McAllister volesse stare da solo e volesse liberarsi temporaneamente della propria famiglia ok ecco qui invece non capiamo bene il rapporto perché il padre praticamente c'è ma è quasi come se fosse inesistente la madre la vediamo due secondi e soprattutto la madre non ha un'unghia dello spessore che aveva la madre nel film originale no una madre che la storia segue una madre che fa di tutto per tornare ma vi ricordate il suo viaggio sul pulmino con John Candy polka 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 non so se ve lo ricordate ok penso di sì qui non c'è niente di tutto questo io dico ma almeno lo sforzo almeno la volontà di fare qualcosa di simpatico io non pretendevo che mi replicassero la genialità del primo mamma perso l'aereo perché è impossibile i tempi sono cambiati ma quantomeno una commedia per famiglie è godibile ma che è staccafonata maledetta soprattutto siccome c'è un casino incredibile tra l'altro quale potrà mai essere il fattore che andrà a far rimanere a casa da solo il bambino succede questo all'aeroporto cambiano il volo in sostanza splittano le famiglie su due voli diversi e quindi Max è costretto ad andare con un volo che non è quello dei suoi genitori il volo dopo benissimo ma siccome c'è troppo casino in casa lui cosa fa va in garage e si mette a dormire in macchina una cosa per cui io allerterei gli assistenti sociali perché se il bambino è costretto a dormire nel sud di famiglia in garage c'è qualcosa che non va soprattutto ma il bambino ha dieci anni ma tu genitore prima di andare a letto a farti magari una sveltina con quel tristone di tuo marito ma non dai una non so un'occhiatina a sto cazzo di bambino una buonanotte cioè perché qui significa che questi sono andati a letto senza neanche dare la buonanotte al loro figlio io se dieci anni fossi andato a letto e mia madre non avessero la buonanotte sarei finito in analisi ho capito che c'è una differenza generazionale però proprio non ha il minimo senso perché qui non è che il bambino si è alzato di notte e è andato a dormire no 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 questi non hanno neanche controllato che il loro figlio fosse nel suo cazzo di letto premio genitori dell'anno 2021 a mani bassissime cristo santo e succede che nel frattempo ed è qua la bellezza del film vediamo quelli che dovrebbero essere i due ladri a casa loro e sono il tizio dell'inizio il proprietario della casa in vendita quello con la scatola con la scatola di bambolotti e è il camper che tutti ricorderete per essere Kimmy Schmidt ed era anche in The Office tra l'altro ok padre e madri di famiglia madre e famiglia con due figli a carico a un certo punto tra l'altro è bellissimo che loro devono vendere la casa perché lui ha perso il lavoro perché era un migratore di dati che ha perso il lavoro per via del cloud e quindi sono costretti a venderla sotto Natale e già che questi siano i due cattivi del film a me manda i pazzi cioè ma seriamente vi rendete conto cosa devono aver pensato a proposito ma che ci mettiamo qui a fare le veci dei due ladui cattivissimi che sono disposti a fare molto male ad un bambino guarda sono indeciso tra due galeotti che scappano dal carcere vogliono fare qualche colpo la notte di Natale per poter farsi dei soldi e andarsene a fare la bella vita all'Hawaii oppure un padre e una madre di famiglia che devono vendere la loro casa sotto Natale con il rischio di andare in mezzo alla strada con i loro due figli non lo so adesso decido ma come faccio io a pensare che questi sono due cattivi se sono un padre che ha perso il lavoro e una madre con due figli che devono vendere la casa sotto Natale ragazzi ma questa è roba la Charles Dickens ma come cazzo ti salta in mente di mettere una roba del genere all'interno del film e la cosa terrificante che mentre sono a letto ricevono la visita del fratello di lui con moglie e figlio che sono arrivati senza avvisare un giorno prima quindi di notte tranquilli con i regali perché questi sono più ricchi insomma questi qui sono lì che devono vendere la casa che rischiano in mezzo alla strada e arriva questo qua con la moglie che è più giovane il figlio che peraltro è cleptomane perché lo vediamo a un certo punto che ruba degli addobbi natalizi da un mercatino e si portano dietro il paccone di regali perché sono ricchi e gli sbattono in faccia la ricchezza a onore del vero non sono neanche poi così antipatici sono un po' stravaganti ma io pensavo che fosse il fratello che continua a sbattere in faccia al padre di famiglia il fatto che lui si la passa meglio quant'altro in realtà no in realtà no e meno male perché ci mancava solo questo per rendere questo film ancora più fastidioso ve lo dico comunque sia succede che questi devono vendere la casa allora oltre al fatto che il fratello e la moglie sono arrivati nel cuore della notte si prendono anche il loro letto e loro devono andare giù devono dormire di sotto allora lui a un certo punto siccome non riesce a dormire decide così di accettare il suggerimento della madre del bambino mostruoso che gli è entrato in casa quella mattina e va a vedere quanto vale questo bambolotto orrendo con la testa al contrario scopre che vale 227 mila dollari al che tutto contento va di sopra ma ehi il buon Max pare che abbia rubato il cazzo di bambolotto scusate ma perché gli sceneggiatori vogliono farmi parteggiare per un bambino viziato che non apprezza quello che ha che è pure ladro che deve affrontare un padre e una madre di famiglia che stanno per rimanere senza casa a Natale è tutto il contrario non lo puoi fare cioè non puoi non puoi cioè tu non puoi pensare che io spettatore parteggi per quello stronzo di bambino infatti i veri protagonisti sono proprio i due ladri ma poi non sono ladri peraltro ladri questi vanno a riprendersi ciò che è loro non sono ladri cioè questo gli ha rubato un bambolotto a 227 mila dollari sono loro i ladri allora il padre di famiglia dice senti io devo andare là va perché si ricorda che a un certo punto la madre per minacciare il bambino per la cosa di lasciarlo a casa e non portarlo a Tokyo dice Alex scusate Alex Max Mercer se fai così e lui dice Carola Mercer e lui si è annotato i nomi e è andato ovviamente su Google e ha trovato la casa arriva e trova tutti in partenza gli zii perché i genitori sono già andati via ma il bambino è rimasto nel SUV ricordiamolo e la cosa bella è che questa famiglia credo che tutte insieme non raggiunga il cui di 75 perché c'è lo zio quello antipatico di cui non ricordo il nome non so neanche se lo pronunciano ma non me ne frega un cazzo quello che prima o poi farà una strage ne sono convinto che a un certo punto dice ah tu devi essere l'autista Uber beh siccome io sono ricco e antipatico ti tratterò come uno stronzo a proposito devo urlare un attimo a alta voce il codice per sbloccare l'allarme 1 1 1 2 bene e come se non bastasse metterò questa chiave per aprire la porta sotto al vaso di fiori perché tanto tu sei un umile autista Uber e io invece sono sto cazzo e quindi non accadrà nulla spoiler non era l'autista Uber ovviamente lo zio rincoglionito ha scambiato il padre di famiglia per l'autista Uber e quando un altro membro della famiglia gli ha chiesto il codice dell'allarme lo ha urlato all'alta voce e davanti a questo tizio ok che anche se è un autista Uber metti caso potrebbe comunque essere una persona con cattive intenzioni magari fa l'autista Uber di giorno e la sera scuoglia i gattini che cazzo ne sai tu mette la chiave veramente sotto al vaso di fiori e se ne vanno tutti senza dare il tempo a quest'uomo di spiegare che non è un autista Uber e indovina cosa succede lui ovviamente sfrutta questa informazione a suo vantaggio guarda dalla finestra e vede che c'è il giacchetto del bambino con dentro il bambolotto perché si vede la sagoma e allora entra mette l'allarme ma non riesce a trovare la non riesce a trovare la giacca perché anche se l'aveva vista da fuori sostanzialmente sente la voce dell'Alexa di turno che si chiama Homebot per una questione di copyright è una cosa una gestione di domotica inventata che parla in tedesco perché qualcuno per fare un simpaticissimo scherzone la sera prima aveva cambiato la voce in tedesco e quindi scappa convinto che ci sia qualcuno che parla tedesco questa cosa fa morire da ridere perché voglio dire non sente che è una voce robotica ho capito che è in tedesco ma si capisce cioè come cazzo parlano le persone con te di solito parlano così ciao padre di famiglia fallito ma che cazzo vuol dire scusami e già questo è un protesto idiota sta di fatto che lui vuole tornare con la moglie perché porca miseria devono riprendersi sto cazzo di bambolotto ma cosa accade accade che il bambino si sveglia si accorge di essere da solo e senza che ti abbiano costruito questa cosa parte un montaggio simile a quello con Kevin che si sbizzereva in casa da solo ma molto più irritante con lui che a un certo punto è vestito come Scarface e rifà la scena di lui che pippa coca ma mangiando l'M&M's sul tavolo e io dico sceneggiatori che cazzo avete nel cervello vabbè soprattutto narrativamente parlando perché c'è quello quando Kevin c'era quel quando c'era quel montaggio con Kevin ok lui faceva delle cose sensate mangiava il gelato correva per la casa questo perché dovrebbe vestirsi come Scarface e fare la scena di lui che pippa coca ma mangiando gli Smarties o le M&M's sono quel cazzo che sono come fa a sapere chi è Scarface ma questi genitori oltre a non controllare se hanno figli nel loro letto oltre a dimenticarsi la casa gli hanno pure fatto vedere Scarface ma ragazzi ma visate veramente i servizi sociali non è normale questa cosa qua e che cosa succede? succede che si stanca subito di essere da solo immediatamente e vabbè e subito dice ah no sono da solo che cosa brutta voglio andare su internet ma hanno messo il parental control oh peraltro qui arriviamo al momento che io aspettavo perché i genitori si accorgono a Tokyo che il bambino non c'è ok peraltro complimenti agli zii e cugini che non si sono accorti che non era con loro bravi ma soprattutto si accorgono in questa cosa e io mi chiedevo ma come si fa nel 2021 a ripetere questa storia che a momenti abbiamo i telefoni anche nei tostapani ormai si può comunicare anche con l'orologio come cazzo è possibile? la forzatura suprema internet bloccato col parental control quindi non può leggere le mail non ha uno smartphone cosa credibilissima nel 2021 che un bambino di 10 anni non abbia lo smartphone ce ne saranno magari ma proprio proprio l'uno dei pochi uno dei dieci bambini nel mondo a non avere uno smartphone o un cellulare è l'unico che viene lasciato a casa dai genitori il giorno di Natale quando loro vanno a Tokyo sicuramente certo soprattutto perché non chiamate i vicini eh ma noi non conosciamo i vicini siamo lì solo da due mesi e non è socializzato con nessuno ma vacca la pupazza ma come cazzo ti viene in mente santo Dio tra l'altro quando ci mostrano la famiglia Tokyo si vede che stanno guardando un film in televisione che è chiaramente il remake in salsa spaziale di Angels with Filthy Souls ovvero il finto film che sia nel primo che nel secondo film di Mamma Persona Aereo che Evan guarda quello con il tizio che spara eh a varie persone ecco e uno dei personaggi commenta con tutti questi remake rovinano sempre i classici allora ve ne siete accorti allora allora lo sapevate allora eravate sicuri di star facendo una merda quindi l'avete fatto apposto e avete voluto ribadirlo con questa citazione io vi amm... no e niente il bambino è isolato nel frattempo padre e madre di famiglia decidono di andare a riprendersi sto cazzo e bambolotto perché la moglie dice no no dobbiamo andare assolutamente ritornano e ovviamente l'allarme non viene sbloccato perché voglio dire alla fine era 1 1 1 2 un numero difficile da ricordare lui digita 2 1 1 1 va bene d'accordo l'allarme non si sblocca parte il bot tedesco con la moglie che dice oddio hai ragione c'è una tedesca oh mio dio e tutto questo mentre loro parlavano reciprocamente dicevano col bambino che ascoltava sopra loro non sanno che c'è il bambino e dicevano dobbiamo prendere quell'orribile bambinetto e lo venderemo a 200 mila dollari e una qualche vecchia zitella che lo esibirà in casa sua il bambino si immagina di essere lui cioè lui pensa di essere lui l'orribile bambinetto no perché tra l'altro bellissimo che è un bambolotto ma dobbiamo chiamarlo bambinetto in modo che ci sia l'equivoco cioè inventiamoci no delle espressioni idiomatiche che nessuno userebbe parlando di una bambola così almeno si crea il simpaticissimo equivoco io ero lì che dicevo boh ma cosa cazzo cosa sta succedendo e il bambino si immagina quindi lui che viene per appunto esposto da queste vecchiette che lo baciano e si inumiscono i pollici e gli fanno così sullo zigomo e io ero lì che dicevo ma veramente ma questo bambino ma dove cazzo ha vissuto finora cioè io capisco che sei un bambino va bene ma è un bambino discretamente scemo cioè come fai a pensare che stanno parlando di te perché poi lui si ricorda della battuta che ha fatto il tizio dicendo vendendo i miei figli verici ho fatto la metà e quindi pensa stanno parlando di me ha già venduto i suoi figli e vogliono vendere anche me la tratta degli schiavi così alla luce del sole ma sì cioè ho capito che sei un bambino ma sei anche un po' pirla non sei solo bambino cioè qui non si tratta di essere infanti si tratta di essere rincoglioniti è diverso e vabbè e quindi il film si trascina con scene di questo tipo con loro che scappano di nuovo e devono tornare poi a un certo punto vanno in chiesa proprio nel momento in cui anche Max è andato in chiesa e vede questa svendita che non è una svendita cioè lui pensa che sia una svendita giocattoli per bambini poveri per bambini meno fortunati lui entra vede tutti i giocattoli e dice allora io ne prendo tre e la tizia dice no guarda che sei tu che devi darli ah e allora io ripeto ma questo bambino è un bambino o è un rincoglionito io me lo chiedo perché non capisce che non può essere lui il bambinetto di cui parlano va al mercatino che non è un mercatino alla raccolta dei giocattoli bambini poveri pensando che si possano prendere cioè questo questo è deficiente questo bambino è deficiente ma cosa devi fare cosa gli vuoi dire alla faccia dello spirito del natale è da prendere cioè veramente ti viene voglia di prenderlo a scarpata nel culo il bambino fittizio del film ovviamente con i bambini veri non si farebbe ovvio ma questo bambino fittizio del film è da scarpata nel culo e in quel mentre arriva la gente loro sono in chiesa e vedono dalla vetrata non l'hanno ancora visto ma c'è lui che parla e vedono che arriva la gente immobiliare sì perché all'inizio del film quando i bambini arrivano e non sanno che i genitori stanno vendendo la casa c'è la gente immobiliare che spacciano come il personal trainer del padre con tante simpaticissime gag sul fisico flaccido del padre vai di bodicegno in cana tale siamo tutti più buoni arriva questo qua che dice guardate che c'è un'offerta per la casa quindi dovete sbrigarvi e nel mentre vedono il bambino che parla con la vecchietta che sta raccogliendo giocattoli e pensano che lei sia la nonna tedesca il bambino è a casa ed è con la nonna tedesca anche loro siete sicuri di non avere qualche piccolo problema di comprensione o che so di intelligenza perché è un bot che parla tedesco ma non te ne sei accorto mannaggia il tuo cazzo e invece no non se ne accorgono loro ordiscono questo grande piano e c'è tutta questa scena di loro che devono scavalcare il muretto che dura 5 minuti è un tedio infinito e io ho pensato ci manca solo che adesso ci mettono una bella battuta sulle scoreggie e siamo a posto e che cosa arriva alla O di a posto lei che tiene lui il marito sulle spalle con lui che le scoreggia in testa con tanto di battuta annessa sulla puzza di quella scoreggia io a Natale secondo Disney Plus dovrei guardarmi con la mia famiglia un film con bambini deficienti adulti più rincoglioniti abusi su minori vari con genitori che lasciano dormire figli in macchina senza accorgersene e in più in cui il punto più alto è una battuta sulla scoreggia di questo rincoglionito che peraltro cade simpaticamente con i pantaloni abbassati fino alle caviglie e ci mettiamo anche gli atti sceni in luogo pubblico e abbiamo fatto tutto il pool di reati minori molto bene attenzione scavalcano eccetera entrano in casa e scoprono di essere entrati in casa di una famiglia nera e fa ridere perché è nera perché loro cercano un bambino bianco e invece c'è la famiglia nera con la foto che ti fa vedere che sono neri non possono essere loro no il razzismo signori il razzismo il razzismo ci mancava Natale oh finalmente è arrivato anche il razzismo e siamo a posto ma porca puttana ma hanno fatto una lista di tutti i disvalori della società per ribaltarli e metterli dentro a questo film come se fossero cose simpatiche ma come cazzo si fa ma cosa ti viene in mente ma cosa ti sei fumato per ordire una sceneggiatura del genere io me lo continuo per tutto il film dicevo questi hanno bevuto la trementina questi hanno bevuto la trementina perché altrimenti non si spiega non si può spiegarli non ha senso ragazzi non ha il minimo senso mi dispiace non ce l'ha per scappare dalla casa cadono nella piscina congelata e quindi sono tutti infredoliti ma il bambino perché hanno sbagliato casa il bambino nella casa a fianco li vede li sente e dice devo preparare un piano e c'è con tanto di musica quella del setting the traps la stessa del primo film e anche le altre musiche sono le stesse rielaborate ma sono quelle non sono di John Williams ma sono di un altro compositore ma sono quelle lui che sta per l'appunto facendo tutte le trappole e io pensavo ma poveri cristi cioè questi vogliono qualcosa che questo stronzo ha rubato ma poi scusa ma io dico ma vai dalla polizia e certo no vai dalla polizia perché la polizia ti aiuta forse in film dove le persone sono normali in questo film l'unico poliziotto che vediamo è Buzz McAllister e sì è Buzz McAllister è proprio il fratello di Kevin McAllister cresciuto che è diventato poliziotto interpretato dallo stesso attore che lo interpretava nei primi due film che arriva si fa infinocchiare dai due che dicono no no è casa nostra stiamo andando via ed è un completo idiota a un certo punto gli dicono guarda che dei genitori hanno detto di andare a dare un'occhiata a questa casa perché i genitori sono a Tokyo e hanno lasciato il bambino a casa cosa no è mio fratello che adesso ha aperto un'azienda di sicurezza per le case la McAllister security con il simbolo del primo film che c'è fuori dalla casa e ogni anno fa questo scherzo per cui dice che un bambino è rimasto a casa da solo perché gli è successo quando era piccolo e quindi fa questo scherzo ogni anno quindi Kevin è diventato un adulto buffone e testa di cazzo però devo ammettere che è simpatica l'idea che lui che da piccolo ha sgominato per ben due volte la banda del rubinetto sia diventato il proprietario di un'azienda di allarmi e sicurezza per case devo ammettere che questo pur non mostrando a Kevin McAllister grazie a Dio mi ha divertito e quindi lì finisce il cameo di Buzz McAllister che non vedremo più e che all'economia del film non aggiunge assolutamente un cazzo e quindi cosa accade? accade che lui dice non posso chiamare la polizia perché sono dei deficienti e senti chi parla prepara le trappole quando loro arrivano ci sono queste trappole che ora io sulle trappole vorrei spendere qualche minuto perché già nel secondo film Mammo riperso l'aereo erano esagerate quelle trappole veramente erano troppo esagerate cioè i ladri sarebbero dovuti morire venti volte ciascuno cioè uno gli arriva un mattone in testa due volte quindi è ovvio che era ormai una comicità da cartone animato alla Tommy Jerry era quello slapstick esageratissimo e io sono disposto ad accettarlo per amore del cielo ma qua si va oltre cioè qui veramente è tentato omicidio non sono più trappole è ancora più tentato omicidio che in Mammo riperso l'aereo cioè qua c'è lui che usa questo fucile che spara palle da biliardo in fronte ma avete presente cosa vuol dire beccarsi una fucilata con una palla da biliardo qua muori la cosa bella è che il tizio il padre di famiglia vestito a babbo natale non si è capito bene perché si becca la palla da biliardo in fronte e gli fanno anche il trucco del bernoccolone che è orribile sanguinolento non fa ridere è una roba realistica come faccio a ridere cioè quando quando a Harry e Marv succedeva le cose era buffo qua non è buffo qua ti dà proprio l'idea che non sono morti per miracolo e prima congela il vialetto e loro cioè non è che camminano sulla neve si mettono a camminare sul vialetto cadono si beccano i lampioni in faccia cioè io capisco lo slapstick ma così è troppo cioè così ragazzi diventa solo enigmista non è più una roba divertente è una roba tragica a un certo punto gli fa arrivare vabbè i sacchettoni in testa alla tizia brucia i piedi e vedi lei con proprio le ustioni ma truccate bene che io dicevo ma ragazzi come fa a camminare con i piedi conciati così cioè non mi puoi mettere un trucco realistico per delle ferite che dovrebbero essere simpatiche cazzo questi sono cioè questo è da mandarlo in galera cioè questo ha fatto delle trappole che questi qui sarebbero dovuti morire dodici volte ciascuno come minimo ma peggiori ma ma poi voglio dire potrei capire cioè faceva ridere il mamma o personele mamma o personele perché questi cioè nel secondo Harry e Marv volevano rubare non so se ve lo ricordate ma volevano rubare volevano rubare ai bambini dell'orfanotrofio ai bambini dell'ospedale comunque volevano rubare ai bambini volevano fare delle cose cattive questi vogliono riprendersi un bambolotto loro legittimo che vale 227 mila dollari che sto bambino di merda ha rubato ma allora ma stiamo scherzando cazzo ma dai e dopo una sequela di trappoloni si chiarisce il malinteso si chiarisce il malinteso perché trovano la giacca ma dentro la giacca non c'è il bambolotto c'è una delle bibite giganti che gli erano state negate quando era andato in visita alla casa per pisciare e allora chiarese il malinteso il bambino dice ma voi non volevate vendere ma non parlavamo di te parlavamo del bambolotto ma io non ce l'ho il bambolotto ma chi è che c'è in casa nessuno oh povero piccolo lo abbracciano e tornano a casa e li porta portano il bambino a casa loro che io dico ma come ma questo c'ha un bugno qua che sta morendo quell'altra c'ha un schione di quarto grado sui piedi e porta oh poverino 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 ma io chiamavo la neuro deliri ma che poverino ma questo è veramente solo enigmista poverino con lui che ho imparato il valore del Natale voglio bene la mia famiglia ma se li odi ma se non te ne frega un cazzo che neanche sappiamo come si chiamano a momenti ma come cazzo hai costruito si scopre che il bambolotto l'ha rubato il bimbo cleptomane figlio del fratello del padre di famiglia che si presenta la mattina di Natale col bambolotto lì lo lancia e io ho pensato quindi da un bambino di merda siamo passati ad un altro ed è il piccolo Max Mercer a prendere il bambolotto e salvarlo e il finale arriva con loro tutti a tavola che praticamente fanno lo spiegone abbiamo venduto il bambolotto abbiamo fatto 230.000 euro ci siamo fatti rifatti la casa vi abbiamo pagato cioè bello che hanno pagato loro il lampadario crollato cioè il bambino li ha quasi ammazzati e loro hanno dovuto pagare il lampadario ma come cazzo siamo ragazzi io non ce la faccio io non ce la faccio e niente finisce così col bambino che alla fine gli danno la bibita eh meglio se la diamo ti ricordi l'ultima volta la morale è se non ti piacciono i no se sei un bambino le persone ti dicono di no fai di tutto per avere quello che vuoi lo otterrai ma che cazzo di insegnamento è col bambino più piatto di sempre un'interpretazione terrificante interpretazioni da parte di tutti orribili una regia che non esiste perché la regia di sto film non esiste musiche che sono identiche ma suonate peggio insomma ma che cazzo è questo film è una delle cose peggiori che abbia visto negli ultimi tempi nonché forse il peggior film di Natale di sempre io sono semplicemente allibito ragazzi lo schifo ma quello vero orribile brutto oltre ogni comprensione io non ce la posso fare per me veramente un film terrificante semplicemente terrificante quindi questo è quello che pensavo circa home sweet home alone ovvero mamma perso l'aereo e mi fa male doverlo chiamare con lo stesso titolo di quel film che adoro voglio sapere la vostra specifico l'avete visto vi è piaciuto perché secondo me è una merda di quelle totali però poi vedete voi quindi io vi auguro ancora una volta buon Natale grazie mille a tutti per aver seguito fin qui spero che questa recensione natalizia incazzata e accaldata perché questo maglione tiene un caldo in terribile quindi ci sto sudando con muflone vi sia piaciuta io vi abbraccio grazie mille infinitamente noi ci vediamo al prossimo muovlog ciao a tutti io dico cosa devono rovinarmi adesso in gemelli con Danny DeVito e Schwarzenegger oh in realtà Danny DeVito sta già girando il sequel dei gemelli con lui e Schwarzenegger ed è in programma anche un reboot la mia vita è finita oh in realtà è in programma oh in realtà è in programma